L'organizzazione, il giudice, Nicola, grande giudice, presidente, mascherina, Covid, effetto Covid. Ciao a tutti, siamo qui pronti per iniziare da 54 km, tre fiumi e tre torrenti a Ferrera, Erbognone, GS e Flores, ma tutto questo dopo la sigla. Io e Simone oggi qui, giù. Eh ma sicuro? Dopo la sigla! Solo bike? Certo. Certo. Eh, farla breve, non posso fare un filmato di un'ora. C'è la divisione lungo-corto, basta. Strade bianche, Ferrera, Erbognone continua. Ragazzi ci danno anche la medaglia, fantastici gli organizzatori. Il ciclismo è anche questo, qui belli infangati. C'è la divisione lungo-corto, non posso fare un filmato di un'ora 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 di un'ora. Un'ora di 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 un